Introduzione del Green Pass per gli eventi e la città dell'Aquila già in fermento per l'organizzazione che dovrà necessariamente confrontarsi con i cambiamenti introdotti dal governo e con i tanti eventi che la città ospiterà, che sono concentrati prevalentemente come ogni estate ad agosto. La città si prepara quindi ad affrontare le nuove regole, soprattutto per quel che riguarda gli appuntamenti più importanti, vale a dire la perdonanza dal 23 al 29 agosto e il JETS il 4 e il 5 settembre, sebbene, bisogna dirlo, il comitato perdonanza non solo, anche per i cantieri dell'immaginario, si è già messo alla prova mettendo a punto protocolli molto rigidi e sicuri, tant'è che nella perdonanza dello scorso anno molto seguita non ci sono stati problemi di contagio e di altra natura. Il sindaco Pierluigi Biondi per questo ha voluto un incontro preliminare per gli eventi che si faranno, di certo si muoverà un po' tutta la macchina che coinvolge anche prefettura e questura per operare in sinergia e sicurezza. La legge fornisce qualche possibilità in più rispetto alle capienze, in zona bianca ad esempio all'aperto si può arrivare a 5.000 persone, il nodo però è anche la difficoltà che al momento appare più grande e relativa ai più piccoli, dai 12 anni scatta l'obbligo del Green Pass, sotto i 6 non serve il tampone, sopra i 6 sì, la faccenda è tutt'altro che semplice, come si potrà chiedere ai bambini e ai genitori, viste le tante attività ludiche che si faranno per loro, di effettuare un numero così alto di tamponi ogni volta? Le prenotazioni per i vaccini intanto corrono, per chi indeciso ha cambiato idea anche in città, dopo le nuove disposizioni, le dose di Pfizer sono di meno rispetto ad altri sieri, come sottolineato dallo stesso Biondi. Il cambio di passo in città ad ogni modo con l'applicazione delle nuove disposizioni ci sarà già, con il concerto di Carmen Consoli 7 agosto alla scalinata di San Bernardino, sarà un primo banco di prova per la società Aquilana Baratelli che organizza nessun problema, servirà dotarsi di un lettore per leggere i passo anche di un'app al cellulare. Di certo l'organizzazione cambia, bisognerà anche vedere come l'applicazione si calerà sul corteo storico della bolla del 28 agosto, ad esempio, oppure sulla messa. Di questo non si sa ancora molto, nei prossimi giorni però in comune dovrebbero sosseguirsi altri incontri con il comitato per donanza, per mettere a punto strategia e organizzazione dal momento che il programma stilato dal maestro Leonardo De Amicis è pressoché pronto e dovrebbe essere presentato a breve.